musica 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 oh mia mamma ha fatto spawnerci mara montagna allora questa è la mappa di gioco che è abbastanza grande dominion blockade poi c'è sneaky devilsburg a small town with a police station and movie theater for locals bellina la mappa siamo di va che siamo vicini a posso metterci il punto qui hell speak lookout la grafica non è malaccio eh ricorda molto il motore di world z però ma ma vabbè ho già trovato 20 fucili che cazzo è cazzo cazzo aspetta a k un'altra k ah welcome to the game ragazzi guardate c'è da aprire le casse cosa troviamo minchia sembra di giocare a open sembra di giocare a a counter strike open ma questa è roba che c'ho nello zaino e questa è nella quick bar oh 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 che cazzo è che cazzo è dead space che cazzo è che cazzo è che cazzo è che cazzo è un necromorfo ah tra l'altro ci si cura guardate la vita risale questa è un'altra cosa non morto survival però mi porta una sega la vita risale da sola fottuti alieni boh cazzo era dead space per davvero le casse che vi dicevo prima si trovano delle casse suddivise in tutto il server in tutta la mappa di gioco e questa si apre fra un'ora e 35 quindi qui se ci si torna fra un'ora e 35 ci potrebbe essere del bel loot eh da aia no cioè spawnano così oh oh no 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 io buono boh ragazzi una sega le zombie porca troia ah 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 vieni del cazzo oh è velocissimo lui è velocissimo vabbè praticamente sono morto l'ha droppato sostanza della meteora cosa fa? boh sostanza della meteora qualcosa per il crafting allora i vestiti sono questo c'ho eh no non me li posso strappà guardate ragazzi che figata ah questo cosmetico richiede l'ultimate edition qualcosa cioè non è ah ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho fermo fermo ce l'ho sembra uno space marine fave di pantaloni allora tanto se muoio ragazzi pace non c'ho niente uuuuh uuuuh questa dove si sblocca bello ragazzi come sono vestito minchia ok questo c'ha più slot questo lo posso buttare e riprendiamoci la bottiglietta d'acqua tutto tutto al maschio guardate che figata però colgo tanto dove morì colgo l'occasione per farvi vedere una cosa guardate bello c'ha scritto solo spawn no? che spawn da solo se no guardate bello c'ha anche group spawn potete spawnare tutti insieme se siete gruppati allora se faccio world spawn ok ma respawnato da solo da solo ho perso lo zaino ho perso tutto ci c'è al culo ragazzi ma a cazzo sono sto rimuori hello my friend hello my friend how are you? good thank you very good me too thanks where are you from? I'm from Albania I'm from Albania and you? where are you from? and you? and you? and you? and you? and you? ragazzi no 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 Ma dov'è quello stronzaccio? Ma dove cazzo è andato? Porca la p***a! Se sei la salzizia il p***o! Sto stronzo! No! No! Si è chiuso il server! Sono più bello, porca p***a!